Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi mangerò bucatini alla matriciana e un piattone, ma ho fatto una porzione così ampia perché da tempo che desideravo un piatto di bucatini alla matriciana non vedo l'ora di iniziare E' beata Wow, ok Oh Oh E' beata Oh 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.